La Tonno Callipo si prepara, al Palavalenza arriva la capolista indiscussa di questo campionato di Superlega, Perugia, neoqualificata tra l'altro alla fase a gironi di Champions League. Una vera e propria macchina da guerra, insomma, una di quelle formazioni che tanto in casa quanto in trasferta non lascia briciole. Dunque quella di Vibo non sarà certo una passeggiata per Lozarra e i compagni che proveranno a mantenere il ritmo. Sette vittorie su sette ottenute finora, l'ultima in casa contro Trenta con un netto 3-0. Nella scorsa stagione con la Callipo Perugia si impose sia all'andata che al ritorno, dunque il bilancio è tutto a favore degli Umbri. Ma Vibo ovviamente non lascerà niente di intentato. Dopo il capo in trasferta contro Milano, forse non ancora digerito del tutto, cercherà in casa il riscatto. I giallorossi viaggiano all'ottavo posto e con otto punti, non tanti per essere all'ottava giornata, considerando soprattutto quanto si è sprecato. La squadra di Tubertini dovrà rimanere lucida, seppur contro la formazione più forte del momento. Dovrà farlo soprattutto perché dopo Perugia, sempre a Vibo, il 24 novembre arriverà a Modena. Per adesso l'appuntamento è domenica 19 alle 18 per il faccia a faccia tra Tonno Callipo e Perugia. Maria Chiara sigillò per la CNews24. Grazie a tutti.